Continuando a sbagliare, ciao! Dai, non faccio più il... La densità del flusso magnetico è un campo vettoriale. Sì! Di nuovo in forma. Sembrano proprio importanti. Sì! 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 Mantengo il momento lineare! Sì! Sì! Questa esplosione è difficile concentrarsi sullo studio! Di nuovo in forma! Non so tu, ma io sono stufa di tutte queste palle di cannone Però mi è venuta un'idea Se riusciamo ad arrivare a quel cannone ci lanceremo verso il castello Cosa può succederci? Di nuovo in forma Risolvo problemi Urrà per lo Skylander! Questa invasione nemica è una vera palpante Di nuovo in forma Ti tengo d'occhio Non Si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì! Sì! Vado a dare un'occhiata. Vi evoco! Ok, incrociamo le dita e prepariamoci ad entrare nel cannone. Prima tu, però. Ho-ho! I sensei sono più forti qui. Risvegliatevi, fratelli! Vi evoco! Sì! 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 Tempesta in arrivo Spacca il minuto Armato e pericoloso Risolvo problemi Risolvo problemi